Una maxifraude fiscale, messa in atto a due società che operavano nel settore delle promozioni nei supermercati, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Ancona. Nel corso di oltre due anni di indagini, le Fiamme Gialle hanno verificato che una società con sede a San Marino forniva servizi a punti vendita in tutta Italia, emettendo fatture false e violando le regole fiscali del nostro paese. In questo modo truffaldino, basato sulla esterovestizione di un'impresa invece operante in Italia, era possibile offrire servizi a prezzi molto inferiori rispetto alla concorrenza e guadagnare importanti fette di mercato con una sorta di dumping fiscale. Complessivamente, le società hanno impiegato in nero 3.700 promoter, distribuendo compensi per circa 14 milioni di euro, che significano un'evasione fiscale complessiva di quasi 8 milioni. Per quanto riguarda Livra e Vasa, si parla nel complesso di oltre 7 milioni di euro. I responsabili dell'organizzazione sono stati denunciati per truffa allo Stato e frode fiscale e sono stati disposti sequestri di beni per circa 10 milioni di euro.